Vi parlo del nuovo numero di Rizza con una premessa. In noi esistono due mondi, apparentemente l'uno distante dall'altro. C'è il mondo della superficie, il mondo del mio io, quello in cui mi riconosco, quello in cui ti riconosci, quello in cui ciascuno di noi pensa di essere la persona che vede di sé. Quel mondo lì è atterrito, sfigurato dalla paura del virus. E più sono in quel mondo della superficie, più la paura di ricominciare, la paura del contagio, la paura del fallimento diventa forte. Oggi mi ha telefonato un autore televisivo per dirmi che ha parlato con un grande manager che gli ha detto come posso essere felice in questo momento in cui tutti siamo in preda ad un disagio così grande. Come posso farcela? Non so più cosa sia la felicità. E allora quest'autore televisivo mi ha chiamato per dirmi ma è proprio così? No, non è così. Non è assolutamente così. Poi c'è un altro mondo, oltre al primo, molto più profondo. Quel mondo contatta le energie primordiali della nostra interiorità. In quel mondo, anche nei più grandi dolori, sta nascosta la gioia. Ma quel mondo sotterraneo nascosto non è identificato in te, non sei tu. È qualcosa di così profondo di così misterioso che gli antichi chiamavano unus mundus perché si erano accorti prima che noi scoprissimo alcune cose del cervello che noi siamo una sola cosa col mondo intero una sola cosa con le piante, con gli animali, con le persone siamo una sola cosa col mondo ma in un luogo così profondo che spesso c'è straniero. Voi volete chiedermi perché stiamo così male perché ci è straniero quel principio cosmico che ci abita e che ignoriamo trascuriamo come se avessimo in noi il bambino del mondo e non sapessimo neanche più chi è e quando in qualche notte cerca di mandarci un sogno oppure quando all'improvviso cerca di mandarci un pensiero, un'immagine, un interesse un attacco di gioia pensiamo che sia sbagliato proprio per questo unus mundus per questo mondo profondo abbiamo scritto questo numero fai rinascere la gioia di vivere perché la gioia di vivere non è andata via perché un virus ha attaccato le nostre vite le ha cambiate e ci ha riempito di mascherine no 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 vive nel profondo ma se è vero quello che ho detto prima che ovviamente non è mio ma è pescato dalla saggezza del mondo una goccia di gioia io sono uno che pesa molto le parole lo sapete una goccia di gioia è una goccia per il mondo intero quindi anche nel più profondo dolore c'è la gioia come un'onda del mare che sta incalzando per far sta bene te e le persone che hai vicino e anche il mondo la gioia nel disagio è ciò che dobbiamo perseguire questa è la rinascita di cui parliamo tutte le tecniche di cui parliamo in questo numero di rizza sono dedicate alla ricerca della gioia dentro il disagio questa gioia dentro il disagio si può coniugare in una sola parola rinascita buona lettura buona lettura buona lettura